Ma anche... No, che altro sono quattro, cinque, tre fili? Mamma mia, carabella! Ti capisci, vedo? Un cappolo... Un repostante più larghi, forse? No, c'erano proprio le fili in cultura, due tre, quattro, cinque sei, i soldi, due sei, sono... I fili in cui la... Maolino, non sta facendo nulla a lavorino? Ensi, tutti i soldi, vedo siete... Voi un po' di ic Truón... C'è un po' di icergeta, tu ci si fai la testa, in un po' di icergete. Il po' di io, ti peggio da fare, e quindi.... ... e quindi... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti